d'accordo maestra inoltre tatti devi inventare una nuova pozione per l'esame delle streghe non c'è tempo da perdere lo dirò subito a tatti tatti io devo andare è sorto un problema nel mondo dei gatti la regina ha bisogno del mio aiuto ho scritto tutto maestra sei pronto misifu sì sì sono pronto andiamo a risolvere subito il problema ok grazie grazie per avermi aiutata tatti hai visto misifu no tatti misifu non si è presentato per l'ora del tè non lo farebbe mai pensi che gli sia successo qualcosa oh no ha lasciato il campanello non se lo toglierebbe mai e se gli fosse successo qualcosa misifu misifu dove sei misifu 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 non preoccuparti sorella lo troveremo andiamo a chiedere aiuto al signor monin che bello le case sembrano un enorme gomitolo di lana e quelle sono a forma di gatto mi piacerebbe vivere qui che bello oh perché dormite tutti che è successo non lo sappiamo misifu per questo ti ho portato qui per aiutarci è il momento di indagare oh sono pronto avanti misifu questo mi sembra molto strano è molto strano forse a colpa del cibo non credo sia il cibo ho mangiato la stessa cosa e non mi è successo niente forse è l'acqua oh no misifu l'ho bevuta anch'io allora potrebbe essere beh qui qualcosa non quadra non può essere se tu sei lì e allora chi è lì totti non c'è tempo da perdere misifu è sparito ah misifu tutto quello che voglio è il tuo campanello così potrà portare qui tutte le zanzare preistoriche e dominare il mondo stai lontano da me zanzaro stai tranquillo misifu sentirai solo un morsetto e poi dormirai tranquillo e ora dammi il campanello non ti permetterò di fare del male al mio amico torna al tuo tempo misifu farà molto male lascia in pace ai nostri amici razzo minimizzatore non sparire mai più misifu mi sei mancato così tanto ma totti te l'avevo detto grazie mille per averci salvati si era infilato in quella fessura e non ce ne siamo accorti grazie al cielo ci avete aiutati grazie ragazzi è grazie a tutti grazie a tutti